allora buongiorno benvenuti e ben ritrovati a questa diretta allora l'obiettivo è quello di illustrare con un linguaggio meno tecnico possibile quello che è la gestione finanziaria e contabile di un ente locale quindi partire dall'esigenza dal bisogno iniziale e come si procede anche in relazione agli atti amministrativi da adottare molto spesso questo è un tema difficile da comprendere perché la contabilità il bilancio la gestione finanziaria degli enti locali è retta da regole un po particolari poi quando uno c'entra dentro unica ne comprende la logica il significato però da fuori possono sembrare un po astruse allora iniziamo con alcuni concetti fondamentali la contabilità degli enti locali una contabilità di natura finanziaria non economico patrimoniale questo che cosa significa che è un sistema contabile non analogo a quello delle aziende private dove il bilancio si fa a fine anno come nelle famiglie anche un modo di dire diciamo classico facciamo il bilancio cioè facciamo i conti di quella che è stata la gestione ebbene nel sistema degli enti locali il sistema del bilancio è un sistema diverso ha una finalità diversa una finalità di controllo della spesa quando in una famiglia si fa il bilancio alla fine dell'anno si rischia di essere in rosso di aver speso più di quello che si poteva incassare mentre la contabilità degli enti locali tema economico patrimoniale finalità di controllo della spesa cioè io voglio contenere le spese e allo stesso tempo fare in modo che i soggetti incaricati fondamentalmente i dirigenti di fare queste spese lo possono fare con alcuni vincoli preventivi amministrativi ovviamente questo sistema rende più complicato più ingessato il sistema per spendere dei soldi in un ente locale anche per spese di piccole di piccole entità diciamo si devono attivare varie procedure ed è specifico caratteristico della contabilità finanziaria per fare questo occorre partire dal principale strumento di programmazione finanziaria che ci interessa in realtà ne esistono anche alcuni antecedenti però diciamo quello più importante dal nostro punto di vista è il bilancio il bilancio negli enti locali è un bilancio finanziario di previsione cosa significa finanziario di previsione significa che si deve stimare quelle che sono le entrate e le spese che un ente locale ha nell'anno successivo quindi è un bilancio che si fa prima dell'esercizio finanziario nel quale si dice ok io l'anno prossimo sulla base di elementi oggettivi quindi non è random non è a capocchia sulla base di elementi oggettivi siccome tutti gli anni le tasse dei cittadini negli ultimi cinque anni erano di 100 l'anno prossimo non è cambiato granché saranno di sarà super giù di 101 oppure siccome tutti gli anni cittadini pagano 100 quest'anno c'è stato il coronavirus è probabile che l'anno prossimo paghino 80 e quindi vado a determinare la quantità di entrate possibili ragionevoli stimate in questo bilancio di previsione lato entrata stessa cosa faccio lato spesa poiché ipotizzo di incassare l'anno prossimo 80 ovviamente lato spesa non potrò spendere più di 80 perché il principio di pareggio di bilancio mi porta a questo in realtà poi quando approfondirete vedrete il limite di spesa non è soltanto quegli 80 perché alcune di queste 80 entrate andranno messe in fondi o in altri diciamo luoghi del bilancio che non mi consentono di spendere però tendenzialmente questo è il vincolo quindi lato spesa io prevederò 80 60 di manutenzione 20 per acquistare computer 30 per fare altre cose bene il bilancio è l'atto fondamentale questo atto fondamentale una volta approvato entro il 31 dicembre in realtà poi può essere approvato anche successivamente con alcuni vincoli alcune limitazioni mi porta a poter essere autorizzato a spendere le relative somme qui occorre distinguere fra i comuni con obbligo di piano esecutivo gestione e comuni in cui è facoltativo il piano esecutivo di gestione per cui non tutti potranno procedere direttamente alla adozione degli atti conseguenti se non previ approvazione appunto del piano esecutivo di gestione lo strumento attraverso il quale queste risorse questi soldi vengono assegnati ai vari responsabili dei servizi che dovranno utilizzarli per raggiungere gli obiettivi individuati negli altri strumenti di programmazione in particolare il piano degli obiettivi quindi il bilancio il peg piano esecutivo e il piano degli obiettivi sono i tre strumenti che mi dicono quanti soldi ho per fare una cosa 100 per acquisti a chi li do 20 al dirigente a 50 al dirigente b 30 al dirigente c per cosa li devono usare per raggiungere l'obiettivo di promuovere la cultura per raggiungere l'obiettivo di acquistare computer necessari per i dipendenti eccetera eccetera piano degli obiettivi nel fare questo ovviamente ciascun responsabile dell'ufficio dovrà spendere queste risorse sulla base della normativa di settore la principale normativa di riferimento è quella del codice degli appalti la maggior parte della spesa tranne quella ovviamente per gli stipendi per per altri aspetti avviene attraverso la stipula di contratti con fornitori esterni che vengono individuati attraverso appalti di lavori servizi o fornitura quindi possiamo dirla così il codice degli appalti la disciplina degli appalti è la disciplina amministrativa che definisce le procedure attraverso le quali poter spendere le risorse lato spesa dell'amministrazione quindi con regole di trasparenza pubblicità eccetera eccetera per garantire che questa spesa sia conforme alla normativa pubblicistica attenzione mentre il peg e pdo mi assicurano il raggiungimento degli obiettivi il codice degli appalti mi dice quali sono le regole esterne per raggiungere gli obiettivi ad esempio l'amministrazione vuole disinfettare tutte le scuole prima della riapertura questo è l'obiettivo di pdo e assegna ai dirigenti 50 mila euro per poter fare la disinfezione ebbene un dirigente potrebbe dire ok io questi 50 mila euro c'ho la ditta bravissima specializzata e che sa fare questo lavoro gli affido direttamente il lavoro il servizio o la fornitura e questa mi realizza l'obiettivo il codice degli appalti mi dice no non lo puoi fare perché ai fini del raggiungimento degli obiettivi sarebbe una scelta ottima quindi scegliere una ditta specializzata che ha un ottimo curriculum che esegue bene le prestazioni le ha già svolte e mi fa un prezzo anche ragionevole è un'ottima soluzione ma con 50 mila euro devi fare per forza una fra virgolette gara invitando almeno cinque operatori quindi il fine non giustifica i mezzi questo è un concetto importante cioè il raggiungimento degli obiettivi è il fine che persegue l'amministrazione tramite i propri dirigenti negli impegni di spesa ma i mezzi sono determinati da altre norme esterne a quelle che stabiliscono questi questi fini ecco perché il la procedura di gestione contabile è una procedura che si affianca a quelle di gestione amministrativa la stessa cosa vale dove non ci sono impegni di spesa procedimenti amministrativi il fine dell'amministrazione è rilanciare il turismo per farlo un'associazione si propone di svolgere attività di animazione vuole 10 mila euro l'amministrazione non gli può dare l'affidamento anche se quel fine quasi sicuramente verrebbe raggiunto perché non lo può fare perché per la concessione di sovvenzioni e contributi economici occorre fare un bando un avviso e quindi serve una procedura ad hoc quindi anche in questo caso un meccanismo vincolante esterno a tutela del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione quindi tenete conto di questo di questo aspetto quindi facciamo l'esempio in bilancio l'amministrazione ha dato 100 euro per acquistare materiale vario di uso per l'amministrazione il peg me ne assegna 30 un dirigente 50 un altro 20 un altro il dirigente che ha 50 in peg piano esecutivo di gestione da spendere per l'acquisto di materiale dovrà vedere i propri obiettivi dire ok qual è l'obiettivo che mi ha dato l'amministrazione rinnovare il parco computer dei dipendenti comunali quindi io non lo spendo per quadri soprammobili li spenderò per raggiungere questo obiettivo e quindi di questi 50 che cosa faccio decido come impegnarli non li devo impegnare necessariamente tutti insieme posso farlo anche progressivamente quindi dovrò programmare programmare attenzione la programmazione è l'attività fondamentale nelle pubbliche amministrazioni che non è soltanto a livello politico di bilancio è anche a livello gestionale quindi il dirigente dovrà domandarsi come farà a spendere questi 50 mila perché perché se la spesa ad esempio è unitaria cioè vuol fare un'unica gara un'unica procedura per comprare pc server dotazioni questa è una spesa che deve andare ad inserirsi nel programma biennale dei servizi delle forniture quindi la programmazione attenzione finanziaria si affianca ad una programmazione settoriale che potrebbe riguardare appunto i servizi le forniture i lavori pubblici che dipende dalla cifra quindi per poter spendere occorre domandarsi già in fase di programmazione se come utilizzare queste risorse quindi facciamo l'ipotesi che io debba acquistare 50 mila euro di materiale informatico quindi l'acquisto a carattere unitario per poterlo fare devo inserirlo fare richiesta che questo acquisto sia previsto nel piano biennale dei servizi delle forniture e nel relativo elenco annuale dei servizi e delle forniture una volta che c'è la previsione a quel punto sono legittimato ad attivare le procedure del codice degli appalti quindi la procedura negoziata con bando la procedura negoziata senza bando attingere alle convenzioni consip tutto quello che serve per poter effettuare questa tipologia di acquisto e come si procede il primo atto con il quale si procede ad effettuare questa scelta questo acquisto è la determina contrarre quindi la determina contrarre è l'atto con il quale si inizia una procedura che porterà alla sottoscrizione quindi io determina contrarre vuol dire mi decido a fare un contratto quindi ho deciso che farò un contratto con colui che mi offrirà i prodotti migliori bla 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 tutta una serie di condizioni è evidente che quando io adotto questa determina contrarre questo primo atto io non ho certezza di quale sarà la somma definitiva perché perché l'amministrazione abbiamo detto fa una gara fa un bando il bando presuppone che chi offre possa offrire un prezzo diverso quello che l'amministrazione mette in gara è la base di gara è la cosiddetta base d'asta cioè la cifra massima che è disposta a spendere quindi il dirigente dirà io devo voglio comprare i computer al massimo voglio spendere 50 mila euro darò l'appalto a chi propone il prezzo più basso il miglior rapporto qualità prezzo ora non importa la modalità di scelta sicuramente non sarà superiore a 50 mila euro ma non so se sarà 50 49 48 30 quindi la determina a contrarre normalmente non impegna la spesa cioè non blocca la spesa la determina a contrarre prenota la spesa e qui si inserisce il primo atto la prenotazione di impegno di spesa la prenotazione di impegno di spesa c'è proprio perché non sono in grado di avere tutti gli elementi certi per poter impegnare la spesa l'impegno il primo atto della gestione della spesa presuppone la certezza del debito e presuppone l'esistenza di un debitore quando io faccio una gara ancora non ho il debitore perché non so chi la vincerà quindi mancano due elementi manca il quantum e manca il soggetto allora si fa la prenotazione perché è importante la prenotazione la prenotazione è uno strumento diciamo che il dirigente attua per evitare che gli tolgano i soldi io nel peg 50.000 abbiamo detto che succede io potrei fare una gara per acquistare tutto questo materiale mentre sto facendo la gara la giunta potrebbe modificare il peg togliere i 50 a me e darle a un altro dirigente oppure se stiamo attingendo ad un capitolo che non è assegnato a un solo dirigente ma più dirigenti un altro dirigente potrebbe nel frattempo impegnare quelle somme allora la prenotazione non è altro che un blocco temporaneo delle somme cioè nessuno le può toccare finché c'è la gara in corso questa è la garanzia della prenotazione di impegno di spesa ovviamente una volta che si è conclusa la gara e ho trovato il vincitore e ho trovato il il quantum devo devo all'aggiudicatario quindi si è aggiudicato la gara per la vendita di computer la ditta rossi con un ribasso di gara del 10 per cento e quindi io spenderò 45 mila euro farò la determinazione di aggiudicazione della gara con l'impegno di spesa di 45 mila euro che è la cifra effettivamente impegnata che a quel punto viene congelata viene bloccata sui capitoli di bilancio attenzione un'altra cosa importante che a differenza della gestione casalinga diciamo del bilancio familiare dove se io vado a fare la spesa non è che alla cassiera del supermercato gli dico le dico guardi allora non si preoccupa lei mi dia la spesa io le do la determina a contrarre questi vi arrestano ok quindi quando io vado a fare la spesa pago direttamente quindi movimento moneta elettronica o fisica la pubblica amministrazione invece non fa questo la pubblica amministrazione non paga la pubblica amministrazione paga dopo paga sempre dopo l'esecuzione della prestazione quindi la pubblica amministrazione quando aggiudica una gara per 45 mila euro il l'aggiudicatario non vede una lira l'aggiudicatario sa che potrà eseguire la prestazione ed ha certezza perché è un creditore solido l'amministrazione di avere quelle risorse ma non vengono pagate quindi l'impegno non è il pagamento della prestazione ma vedremo che nemmeno l'atto successivo è il pagamento la prestazione quindi siamo arrivati al punto in cui il dirigente sulla base del bilancio sulla base del peg sulla base del piano biennale dei servizi delle forniture dopo aver fatto una gara quindi vedete quanto è complicato compare sti cavolo di mobili o di computer in una pubblica amministrazione è arrivato a questa diciamo questo risultato dopodiché cosa succede il fornitore porterà i computer porterà i beni farà svolgere alla sua prestazione l'amministrazione a quel punto dovrà verificare se la prestazione è conforme alla normativa quindi se la prestazione realizzata è conforme al contratto quindi mi hai portato i mobili che avevo ordinato le hai consegnati nei tempi previsti hai fatto tutto quanto era necessario a quel punto si procede alla cosiddetta liquidazione la liquidazione è l'atto successivo all'impegno di spesa con il quale nei limiti dell'impegnato ovviamente perché se io ti ho detto che ho comprato 45 mila euro di computer non me ne puoi portare 50 mila o meglio se me li porti me li regali perché io al massimo ti posso pagare quanto ho impegnato la liquidazione in condizioni fisiologiche corrisponde alla cifra impegnata ma non è sempre così ad esempio se io ho ordinato 45 mila euro di computer e ho previsto che tu me li portassi in due tranche quindi metà subito e metà fra sei mesi dopo che mi hai portato la prima metà dei computer io sono in grado di pagarti quella somma quindi verificato che i computer sono veramente quelli funzionanti quelli dell'ordine sono la metà io farò un provvedimento di liquidazione di 22.500 euro perché il tuo credito sussiste la prestazione è stata svolta e io sulla base del credito che vanti che non è totale non è complessivo ma è appunto riferito a questo 50 per cento sono in grado di liquidare liquidare cosa vuol dire determinare la cifra effettivamente dovuta ancora non è il pagamento attenzione ancora sono in una fase in cui l'amministrazione ha semplicemente detto ti devo 22.500 dopodiché la palla passa alla ragioneria questi due atti l'impegno di spesa e la liquidazione li fa il dirigente competente li fa quel famoso dirigente a cui gli erano stati dati 50.000 euro una volta che ha fatto la liquidazione la il provvedimento di liquidazione passa appunto all'ufficio ragioneria perché l'ufficio ragioneria trasmette l'ordinativo di pagamento quindi fornisce l'ordine di pagare alla banca il comune non ha soldi in contanti come non ve lo dovete immaginare una grande un ente con una grande cassaforte dove tiene le limu e le entrate dei cittadini e dove tiene i soldi in contanti per le spese tutti i soldi sono gestiti da una banca la cosiddetta tesoreria che è la banca che gestisce in entrata e in uscita i soldi per il comune allora come si fa a pagare questo cavolo di cittadino che ha portato ai computer si deve ordinare alla banca di pagare il fornitore questo avviene attraverso un cosiddetto mandato di pagamento è la fase dell'ordinazione si ordina alla banca di pagare 22.500 euro sul conto corrente x y e z del del creditore che a quel punto avrà accreditata la sua somma questo è il ciclo di gestione della spesa nelle pubbliche amministrazioni che parte da lontano parte dal bilancio passa dal peg il peg deve essere letto insieme al pdo può passare dalla programmazione biennale dei lavori dei servizi e forniture e triennale dei lavori pubblici se si superano certe soglie 40.000 per i servizi e forniture 100.000 per i lavori arrivare sempre alle fasi della spesa quindi impegno liquidazione ordinazione per poi giungere al pagamento effettivo e chiudersi questa prima parte del ciclo perché poi il soggetto fornirà la seconda parte dei computer e si procederà alla successiva liquidazione ovviamente questa è la versione fisiologica poi vi ho tralasciato tante altre cose dettagli ma insomma ora volevo fare la versione semplice c'è anche l'aspetto patologico mettiamo che l'amministrazione abbia ordinato questi computer 22.500 euro di computer sono arrivati subito gli altri ritardano fornitore nicchia non li manda ci sono problemi no guardi eccetera eccetera insomma si arriva alla fine dell'anno il fornitore questi computer non li porta che succede c'è un principio contabile la cosiddetta principio contabile di competenza finanziaria potenziata che prevede che la prestazione per poter essere imputabile al bilancio in corso deve essere eseguita nell'esercizio finanziario quindi se tu i computer che ho ordinato e per i quali ho impegnato le somme nel 2020 perché l'ho fatto ora a giugno me li porti nel 2020 va tutto bene se tu non me li porti entro il 2020 c'è un problema perché perché io non posso utilizzare le somme del bilancio 2020 per una prestazione che mi fai nel 2021 allora quell'impegno di spesa salta quindi che cosa ho ho una somma impegnata non liquidata che alla fine dell'esercizio finanziario non non è stata svolta e qui ci sono due casi fondamentali prima ipotesi ho una prestazione che è stata svolta il soggetto il 31 dicembre mi ha portato i computer semplicemente non ce l'ho fatta fare gli atti li faccio successivamente allora si ha il cosiddetto meccanismo dei residui passivi quindi ho un impegnato non liquidato entro l'esercizio ma la prestazione è stata svolta in sede di riaccertamento dei residui io opererò la conferma di questi residui passivi e poi farò la liquidazione nell'anno successivo vi faccio la versione breve perché sui residui è difficile fare una versione troppo semplificata viceversa qualora la prestazione non sia svolta entro il 31 dicembre queste somme vanno in economia vanno in cosiddetta economia cioè sono somme che non ho speso amen non sono più spendibili quindi sono risparmi diciamo così quindi quei 22.500 euro non si potranno trasformare in computer tu non mi devi più portare nuovi computer io se li voglio comprare dovrò fare un altro atto e potenzialmente anche un'altra gara successivamente viceversa quando è che sia anche un altro caso di economia quando addirittura non ho fatto l'impegno di spesa io avevo 50 mila euro sul bilancio nel 2020 succede un macello coronavirus tutti i dipendenti sono a casa che lavorano in smart working con il proprio pc non ho più bisogno di rinnovare il parco macchine quindi non faccio nessun impegno di spesa a quel punto quelle risorse si dice vanno in economia cioè non sono spendibili non possono essere riutilizzate per l'anno successivo ovviamente sono risorse finanziarie che rimangono all'ente quindi non le ha spese e potranno essere riallocate nel capitolo 2021 per effettuare la relativa la relativa spesa quindi sinteticamente scusatemi mi scuso con tutti i ragioni di capo e chi lavora nei servizi finanziari ma per dirle in maniera semplice il sistema finanziario degli enti locali è un sistema che per capirlo bisogna entrarci un po' dentro la logica è quella previsionale lato programmazione quindi lato bilancio e peg anche paradossalmente quando il bilancio viene approvato in corso d'anno ma è sempre una logica previsionale fondamentalmente autorizzativa è un modo con cui si assegna un budget diciamola così ai dirigenti che possono spendere secondo questo meccanismo a cascata dell'impegno eventualmente preceduto dalla prenotazione della liquidazione che fa il dirigente a cui è assegnato il budget e poi dell'ordinazione del pagamento invece che fa la ragioneria e la banca tesoriere per effettuare i pagamenti in questo modo si spendono le risorse finanziarie dell'ente ed è il motivo per cui l'ente pubblico è più lento nel fare le cose il privato clicca su Amazon e ordina un prodotto lo paga precedentemente e gli viene inviato attenzione un ente pubblico non lo può fare non può acquistare su Amazon perché? perché l'ente pubblico non può fare la liquidazione della spesa anzi addirittura il pagamento della spesa quindi non può gestire la spesa partendo dall'ultima fase il pagamento se non ha fatto tutti gli atti precedenti quindi per poter effettuare il pagamento tramite Amazon occorre la consegna perché la consegna serve per poter fare la liquidazione e quindi non è possibile fare acquisti sui mercati elettronici dei privati Amazon non a caso l'amministrazione ha un suo mercato elettronico che è il mercato nazionale della pubblica amministrazione il MEPA o i mercati regionali dove ci sono regole leggermente diverse anche se simili a quelle di Amazon per cui trovate un mercato, trovate un carrello ma quello che è l'acquisto si chiama ordine di acquisto c'è la trattativa diretta, ci sono vari strumenti che hanno queste logiche leggermente diverse tutte derivanti dall'applicazione di questi principi contabili e finanziari bene, io vi ringrazio, vi saluto, sono quasi arrivato e ci vediamo alla prossima ciao ciao